Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Massimiliano Varrese, il carismatico concorrente del Grande Fratello, ha sorpreso tutti con un gesto inaspettato, ha rivelato di aver ceduto a Johnny Depp il ruolo di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi. Il geffino, noto per i suoi discorsi filosofici, ha dichiarato di aver concesso l'opportunità all'attore hollywoodiano in un atto di generosità senza precedenti. Varrese, soprannominato affettuosamente, il guru, per i suoi consigli sulla purificazione dell'anima, ha condiviso questa incredibile storia durante una conversazione nella casa, svelando di aver lasciato il ruolo a Depp perché aveva bisogno di lavorare. La notizia ha fatto scalpore sui social, soprattutto su Twitter, dove i commenti ironici e increduli si sono moltiplicati. Il talento poliedrico di Massimiliano Varrese è emerso nuovamente durante il reality, quando ha rivendicato di essere stato il precursore dell'hip hop in Italia durante una discussione sul ballo. Questo ha scatenato una nuova ondata di meme e commenti divertiti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.